Sono Ignazio Marino, siamo nel maggio del 2018, è diminuito il traffico. Rebecca viveva in un campo Rom, è riuscita ad ottenere una borsa con l'Erasmus. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Io prometto innanzitutto un pacchetto lavoro per i giovani. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Buoni lavori da 500 euro al mese. Proprio mai. Se sarò sindaco, le prime persone che chiamerò sono Gemma, Patrizia, Paolo, Battia e Dante. Volando su questa città con un volo militare di notte. Cultura, arte, architettura. Vi promesse non ne voglio più. Una città più sicura per tutti. Le tue promesse per favore regalale un'altra. Se funzionano meglio, per arrivare a non so un miglietto, c'è la possibilità di riportarlo a un euro. Quando una promessa si fa, se si fa, poi si rispetta. Se no che senso ha? Parole, 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 parole. Una città a misura di bambini. Parole, parole, parole. Che non ci possono essere gli amici degli amici. Parole, parole, parole. Da domani mattina io ritornerò. Parole, 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 parole. Soltanto parole, parole da te. Un fondo blindato per la fragilità sociale. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Dobbiamo chiudere sulla Colombo delle corsie e farne una corsia preferenziale. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Adesso, voi non mi credete perché io non riesco a fare un discorso serio. Vi accompagnerò per una passeggiata unica al mondo, dove a breve avvieremo la fedonalizzazione. Fedonalizzazione dai, ma quando mai? Quella del parco archeologico dei fori imperiali. Vi promesse non ne vogliamo più. Dobbiamo restituire l'orgoglio a questa città. Tutte le cose che hai promesso di fare, quelle parole che hanno fatto sognare, cosa è rimasto adesso, chissà, niente è rimasto. Potremmo diminuire di almeno un 20% l'utilizzo dell'automobile. Parole, parole, parole. Pubblicheremo in rete come abbiamo speso i soldi. Il turismo è il nostro petrolio. E' un buono casa di 700 euro al mese. Parole, 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 sono tanto parole, parole da te. Il foro di Cesare, il foro di Augusto, il foro di Nerda, il foro di Traiano. Ogni giorno 10 vigili in bicicletta. Parole, parole, parole. Prometto innanzitutto a te. Parole, parole, parole. Rastrelliere dappertutto. Parole, 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 sono tanto parole, parole da te.